la valle del pescara da popoli si può andare alla riviera triatica con la ferrata o con la carrozzabile l'incanto della superba valle dal pescara è ugualmente imponente la descrizione che farò dell'itinerario per ferrovia varrà anche per la carrozzabile in gita turistica lasciai la piazza di popoli mentre l'automobile per aquila metteva in marcia tra scrosci e rombi i poderosi motori nella gelida mattinata autunnale tutto era avvolto da una caligine pesante poco dopo attraversando il ponte che guarda l'aterno furvo congiungersi alle cristalline fredde acque di capo pescara incominciò una pioggiolina lieve come un pulviscolo ma di accia e penetrante alla stazione sarà fatto giorno un pallido e triste giorno senza luce e orbato di sole il treno per castellammare giunse in orario subito ci incontrammo nella gola di tre monti là dove il barone durini argomentava che in tempi remoti si fosse aperto un vulcano onde la vallata di sulmona fosse trasformata in un grande lago le cui pareti brecciose alluvionali pendono sul capo lasciamo bussi con i suoi mastodontici stabilimenti delle dell'elettrotecnica e dell'alluminio che aprivano i poderosi cancelli agli operai a correnti al lavoro dopo otto chilometri tanto e lungo il vado pauroso e tremonti celebre per il suo vento impetuoso sboccammo nella vallata di tocco casauria e cominciamo a scherzare con la rapida corrente del pescara sorvolando il fiume agilmente sui ponti di ferro salutavamo la provincia di chieti e quella di teramo a volta a volta in un susseguirsi di valli e di colline delizia degli occhi in primavera poi l'orizzonte si apriva alla sinistra uno sfondo meraviglioso fino alle lontane montagne mentre alla destra i massicci della magliella mostravano i fianchi robusti leggermente nevati verso le cime torre dei passeri con le in numeri industrie piano d'orte san valentino con gli stabilimenti che lavorano l'asfalto delle miniere bituminose di manoppello e di letto manoppello ci offersero lo spettacolo della loro attività industriale dovunque centrali idroelettriche che sviluppano migliaia di cavalli di forza un fervore di opere e di lavoro che fanno pensare all'alta italia da un lato e dall'altro in numeri paeselli sparsi sulle ubertose campagne accovacciati sui dossi di ridenti colline a destra serra monacesca rocca montepiano casa l'incontrada e bucchianico a sinistra alanno nocciano e rosciano dopo qualche altro chilometro ancora la stazione di chieti la parigi d'abruzzo dicevano una volta vi si accede per una ferrovia elettrica di circa 7 chilometri la città è posta in collina in posizione assai amena dai suoi spalti si spazia lo sguardo su tutta la provincia di chieti da un lato e su tutta quella di teramo dall'altro visitarla è un dovere per il turista per rifornimenti rivolgersi alla società maiella che gestisce numerose importanti linee automobilistiche nel territorio che il territorio di chieti e teramo proseguimo per castellammare ove il treno ci portò caso strano in perfetto orario appena uscito dalla tettoia della stazione mi salutò la dolce sirena della riviera d'abruzzo senza sole in una uggiosa giornata di nubi mi diressi senz'altro al mare per riportargli il mio fervido saluto e nei pressi del padiglione marino laddove nella torri d'estate serge maestosa la rotonda sulle mosse acque abbracciai con lo sguardo l'azzurro immenso solcato trasversalmente da lunghe strisce bianche di spume per i cavalloni rompentisi alle rive sabbiose me ne tornai quindi nel cuore della città dei bagni se cuore può chiamarsi la piazza che domina la stazione perché castellammare è una città tutta moderna fatta solo di ville e di parchi vi sono è vero delle industrie vi sono pure delle cave di argilla ma la vera vita di castellammare è fatta di commercio e nell'estate di villeggiatura se non avete conoscenze voi rischiate d'inverno a castellammare di perdervi per i lunghi viali in una solitudine che vi accora e vi spaventa ma d'estate è tutta un'altra cosa da castellammare si può andare a pescara in vettura attraversando il ponte a gabbia di ferro di 64 metri sul fiume pescara che forma il limite delle due province pescara sorge dove un tempo grandeggiava la città di aternum che gli storici sono discordi se appartenesse ai vestini ai frentani o ai marrusini la prima menzione della città aternum sia all'epoca della guerra marsica secondo olivio all'epoca delle guerre puniche comunque essa ebbe non indifferente importanza perché formava lo sbocco naturale di tutti i popoli della vallata del pescara per aternum passavano importanti strade consolari la salaria traiana frentana la claudia valeria la città era a cavaliere del fiume ed aveva un magnifico tempio dedicato a giove aterno sul fiume era un ponte assai frequentato di cui fa menzione plinio il porto serviva di scalo per l'epiro per l'illiria e per la grecia e vi affluivano vestini peligni marrusini e frentani manteneva però sempre i suoi rapporti per lo scambio delle merci con i porti delle puglie delle marche e perfino delle calabria e della sicilia sarebbe troppo lungo seguire le sorti di pescara attraverso i secoli basti dire che ebbe degli alti e bassi che fu importante assai nel 1100 e decadde per le distruzioni delle guerre normanne nel 1200 fu a volta a volta città popolosa e umile villaggio ebbe ucciso il vescovo cetteo che ora è il patrono della città ed in cui onore si fanno tutti gli anni festeggiamenti magnifici detti natali nel 1764 a gabriele mantonè ministro della guerra nella repubblica partenopea ucciso a napoli nel 1799 prima del 1867 era piazza forte e poderosa con caserme ospedali polveriere prigioni agli effetti commerciali il suo porto è relativamente diminuito di importanza dopo la costruzione delle linee ferroviarie specie in quella litoranea ma ora per l'alto costo di trasporti ferroviari potrebbe riassumere splendore e floridezza nei tempi moderni si interessano delle sorti del porto di pescara man mano uomini politici e personalità locali benedetto capponi deputato di popoli giuseppe de riseis deputato di città sant'angelo il cavaliere ufficiale berardino conti che fu sindaco del luogo e molti altri molti lavori sono stati iniziati ma non sono sufficienti e occorrerà dell'altro per impedire che d'inverno le burrasche portino con i cavalloni le sabbie a ostruire l'entrata del porto del porto canale impedendovi l'accesso alle imbarcazioni di medio tonnellaggio occorre preservare l'entrata con la costruzione di moli e fare opera di dragaggio per approfondire sufficientemente il porto pescara ha un bel teatro il michetti e nessuno ignora che ha dato i natali a gabriele d'annunzio salutai passando con animo commosso la casa dove si sprigionò alla vita con tanta luce intellettuale per chi non lo sapesse o non avesse mai avuto agio di constatarlo pescara è un centro industriale di primo ordine la larga strada che conduce alla stazione attraversa il quartiere delle industrie voi trovate dapprima il grande emporio vinicolo di michele laporta poi la distilleria internazionale di cui è pars magna alberto bucco questa fortissima ditta abruzzese a testè è lanciato il grande liquore brummel che si intitola da sir georg brummel il fondatore e capo del club dei dandis che fioriva a londra verso la fine del 1700 e il principio del 1800 l'avventura divulgata sul conto di brummel ha tutto un sapore fragrante di leggenda certo è che la bontà dei liquori della distilleria internazionale ha dato agio ad annunzio di scrivere a bucco parole augurali al mio caro alberto perché tragga dai suoi alambicchi il liquore della vita per la più grande italia nova il grande stabilimento dei fratelli bucco diretto dall'attivissimo guido bucco offre agli occhi statici la grande mole dei suoi fabbricati questa rinomata casa fondata nel 1868 conosciuta urbi e torbi produce oltre che specialità proprie prodotti chimico farmaceuti farmaceutici puri e fa ampio commercio di tutti gli articoli farmacia fornendo sia gli abruzzi che le altre limitrofe regioni dalla viva voce del signor guido bucco abbiamo appreso il grande sviluppo dell'azienda da presso la ditta bucco e capacini di cesare bucco e poi lo stabilimento di gaetano seccia la cui casa ebbe inizio nel 1883 per la produzione dei mobili ordinari e di lusso non si può negare che l'industria dei mobili sia sufficientemente tenuta in onore nel nostro abruzzo e specialmente in pescara da codesti grandiosi stabilimenti aristide barattucci della casa del corfinio un maestoso caseggiato tito di rosa che il primo che vi compaia dinanzi quando arrivate col treno da chieti ammannisce il liquore che da molti lustri domina in abruzzo alla marina di pescara ove sorride la famosa pineta di annunzio sergono gli stabilimenti dell'industria vetraria abruzzese di gennaio di gennaio petrucciani che pulsano di rumorosa vita sul limitare le sabbie marine chi vi si reca può soffermarsi a rimirare l'infuriare dei frutti dei flutti contro le lunghe dune e lo spumeggiare altissimo delle immense colonne di acqua che si frangono alla riva quando il mare non è di bonaccia fantastico